obblighi naturali siete voi a non darmi informazione affettiva credo di aver perso indignità ditemi come faccio con pochi euro al mese che prendo a sostenervi credo che siete abbastanza grandi scegli per provvedervi da soli se avrò nuovi sbocchi futuri contribuirò nel vostro sostegno ma sappiate che lo faccio da cuore e non per paura dall'alta magistratura ci vorrebbe un contatto un po' più affettivo da parte vostra che non avverto da tempo cosa aspettate per il mio incontro da cuore aperto che si alzi il sipario in un rinnovato aspetto insieme si può andare oltre il confine il cuore batte se lo sai a pensare e amare se no lascia stare Pietro Paolo, quarta poeta naif sanitino editore Pano sigillo d'autore voglia di Davide il cuore 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 ci vorrebbe un contatto, un po' più affettivo da parte nostra, che non averto da tempo, fosse aspettata per il mio incontro, dal cuore aperto, che si alzi il sipario per un rinnovato aspetto, insieme si può andare oltre il confine, il cuore batte se lo sai apprezzare e amare, se no, lascia stare. Pietro Paolo, quarta poeta Naif Sanettino, editore Pamela, sigillo d'autore, cordialità.